Io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti. L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla sua. Vedi, in Italia il sistema di finanziamento ai partiti e alle attività politiche in generale contiene delle irregolarità dall'inizio della storia repubblicana. Questo è un capitolo che possiamo anche definire oscuro. E non lo vedeva solo chi non lo voleva vedere. E non era consapevole solo chi girava la testa d'ora. Non lo vedeva solo chi non lo voleva vedere. E non era consapevole solo chi girava la testa d'ora. Non lo vedeva chi non lo voleva vedere. Si immagini, scusi. I bilanci erano sistematicamente dei bilanci falsi. E non lo vedeva solo chi non lo voleva vedere. E non era consapevole solo chi girava la testa d'ora. L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla sua. I pantaloni alla sua. Io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti. e alle attività politiche in generale contiene delle irregolarità dall'inizio della storia repubblicana. Questo è un capitolo che possiamo anche definire oscuro. E non lo vedeva solo chi non lo voleva vedere. E non era consapevole solo chi girava la testa d'ora. E non lo vedeva solo chi non lo voleva vedere. E non era consapevole solo chi girava la testa d'ora. Non lo vedeva chi non lo voleva vedere. Si immagini, scusi. I bilanci erano sistematicamente dei bilanci falsi e non lo vedeva solo chi non lo voleva vedere e non era consapevole solo chi girava la testa a la porta. Ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla guarda. Pantaloni alla guarda. Pantaloni alla guarda.